Ciao ragazzi, io sono Nell'IRFA e oggi mi trovo su ConanXide. Oggi parliamo delle states o delle caratteristiche come vengono definite qua su Conan in lingua italiana. Praticamente se noi andiamo a fare il tasto II troviamo appunto la voce caratteristiche. Le caratteristiche sono i punti che si distinguono in forza, agilità, vitalità, precisione, grinta, carico e sopravvivenza. Ora vediamo come distribuire i vari punti in queste voci. Come potete vedere la prima voce è la forza, quindi come dice qua determini i danni che infliggi in mischia. Quindi aumentare il livello di questa statistica migliorerà il danno da mischia, che può diventare molto utile. Migliorare questa statistica ti dà attacchi più forti quando usi armi da mischia, quindi armi da vicino, in cui avrai bisogno durante il gioco. Il vantaggio più prezioso della forza sono i brutal strike, che otterrai quando la forza raggiunge il livello 40. Poi abbiamo l'agilità, quindi si consiglia di portarla almeno a livello 40. L'agilità è una statistica che migliora la tua armaratura. Non c'è bisogno in questo caso di spendere molti punti, io direi di arrivare a un 10. Infatti a me mancano ancora un po' di punti, sono 9, quindi dovrei metterli. Quindi direi fino a 10. Invece, per quanto riguarda la vitilità, è una statistica molto importante. La vitilità aumenta la tua salute totale e ha anche buoni vantaggi da ottenere. Come potete vedere qua poi a fianco, ti dice che se raggiungi questi piccoli pallini, quindi questi punti, ti danno alcuni bonus. Per esempio, il primo è il respiro profondo, il cronometro del respiro raddoppia. Poi c'è la termoregolazione, tutti gli effetti della temperatura diminuiscono, quindi è estremamente importante anche raggiungere il punto 2, visto che Conan poi ha appunto dei biomi dove si cambia temperatura molto, si va dalle temperature molto alte alle temperature molto basse, quindi importante. E il punto 3, feroce vitalità, ottiene una reggirazione passiva della salute. Ecco, questo è estremamente, secondo il mio punto di vista, importante raggiungere, perché quando noi andiamo a combattere, perdiamo la vita, ma con la reggirazione passiva non abbiamo bisogno di fermarci e bere pozioni, ma riusciamo a fare in modo che, scusate, oggi non riesco molto a parlare bene, che la nostra, appunto, la barra rossa che vedete qui a sinistra in alto, cresca in modo passivo, quindi per conto proprio, quindi non c'è bisogno di andare a utilizzare, appunto, di prendere pozioni. Adesso io qua non so perché sono morta, prima ero in base, sono morta così, per inerzia, ok? Quindi generalmente si arriva da un minimo di 38 punti a un massimo di 44 punti in vitality, ovviamente perché si deve raggiungere questo terzo punto, diciamo così. Poi dipendono questi punti dal tipo di armi che andiamo a indossare, dal tipo di gioco che vogliamo fare, se PvE o PvP. Poi parliamo della precisione, come vedete io non ho messo nessun punto in precisione perché è una statistica che ti migliora il danno a distanza, quindi generalmente in questo gioco non si usano armi a distanza, se non magari in PvP per difendere la propria base, quindi stando sulle mura e quindi non è un punto dove si va a mettere punti. Poi abbiamo la grinta, la grinta sarebbe una stats che migliora la riserva della resistenza. Soprattutto questa viene utilizzata e che come minimo vanno messi 20 punti, soprattutto se giochiamo su un server PvP. Come potete vedere anche qui poi ha dei puntini da andare a prendere e sono molto importanti, almeno il secondo che ottiene 10% di resistenza in più per ogni tacca di rigenerazione. Poi c'è il carico, quindi l'ingombro, utile soprattutto da mettere molti punti all'inizio, visto che dobbiamo poi costruire case e quindi ci servirà tanto materiale, e quindi direi magari all'inizio di metterli tanti lì, perché non è che ci è richiesto proprio i primi livelli di andare a combattere, ma soprattutto di caricare roba, poi magari di bere una di quelle pozioni che ho già fatto vedere diverse volte. Ecco qua, la pozione dei fiori di loto, questa ci dà una lucinazione che ci permette poi di andare a cancellare le nostre statistiche, quindi i nostri punti che siamo andati a mettere. Cancellerà ovviamente le caratteristiche, ma anche poi le ricette sbloccate, quindi avremo entrambe le due cose azzerate. L'ultima statistica è appunto la sopravvivenza, come potete vedere qua, ed è una STAIDS che ci dà alcuni miglioramenti nella capacità di sopravvivere nel deserto o negli altri biomi. Però sì, ci dà dei vantaggi, magari quando mangiamo il cibo marcio non ci avvelena, ci fa raccogliere più velocemente, gli animali forse ci danno magari leggermente più risorse, come potete vedere, poi qua a fianco ovviamente sempre quei puntini ci dice più o meno quello che fa, però diciamo che già va bene così, non è molto utilizzata e molti lasciano questa statistica a zero. Quindi poi per andare a riassumere direi per un server PVE io consiglierei di mettere circa come minimo 38 punti in forza, appunto viene 38, 40, 44 al massimo, 10 punti in agilità, 30 punti in vitalità, 0 in precisione, 20 punti in grinta, 20 punti nell'ingombro o come viene chiamato qui il peso e 0 punti in sopravvivenza. Poi ci avanzeranno 6 punti che li possiamo mettere a nostro gusto, magari qualcosa in agilità o nell'ingombro, comunque ognuno poi si fa la propria build e poi come ho già spiegato ci sono poi armature e armi che ci danno la possibilità di andare ad aumentare ovviamente, ci danno dei bonus, quindi ci danno la possibilità di aumentare in più queste statistiche. Comunque fatemi sapere voi nei commenti come avete messo questi punti, cosa ne pensate e intanto vi invito sempre a mettere un mi piace a questo video ed iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!